Tartarughe Ninja della IDW numero 16 Continua la mia retrospettiva sui fumetti della Panini Comics pubblicati dal 2013 in Italia che io riassumerò per voi dal momento che sono un pochino introvabili Wabalabadabab e bentornati su No Mamamazzo e bentornati nella rubrica fumetti e nella rubrica Tartarughe Ninja Oggi, come detto pochi secondi fa, parliamo appunto del numero 16 Nel numero 15 ci eravamo lasciati ormai un mese orzono perché ho anche parlato d'altro in una sorta di cliffhanger dove ci sono bensì due storie che in realtà sono delle trame secondarie rispetto alla storia principale ma che allo stesso tempo erano divise in due parti quindi la prima parte era nel numero 15 e la seconda parte nel numero in cui parliamo ora Prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale di mettere un bel mi piace o non mi piace questo video e anche a tutti gli altri che vi frega di condividere il video con tutte le persone che amano il Giappone di commentare qui sotto con quello che ve ne è parso di questo video, di questo numero e seguitemi anche sugli altri miei social tra cui Instagram, Twitch e seguitemi anche sul mio gruppo Telegram Così come nel numero 15 e anche nel numero 16 continuano la seconda parte di entrambe le storie perché anche in questo numero le storie sono ben due la prima riguarda il passato di Shredder e la seconda riguarda Baxter Stockman Continua la retrospettiva ecco di questo, del passato di Shredder del loro Kusaki che vi ricordo essere anche lui proveniente dal Giappone feudale e in un certo senso anche lui è una rincarnazione io a questa cosa non ci avevo mai pensato solo che a differenza delle tartarughe ninja che in questo contesto sono le reincarnazioni dei figli di Amato Yoshi anche egli un guerriero del Giappone feudale reincarnatosi in un ratto Oroku Saki è stato messo diciamo in un sonno molto profondo per centinaia d'anni e è realmente Oroku Saki è lo stesso Oroku Saki di centinaia di anni fa ma Oroku Saki di centinaia di anni fa è la reincarnazione di un antico Jounin del Clan del Piede un Jounin del Clan del Piede che così come Shredder portò alla rovina il Clan del Piede togliendogli l'onore fondamentalmente compiendo un sacco di efferatezze un sacco di assassini vari finché non è stato appunto assassinato dal suo Jounin che ne ha riportato l'onore ai vecchi fasti una maledizione incombe su questo Jounin ovvero che il suo primo genito sarà la reincarnazione di questo antico condottiero fondamentalmente e così è successo Shredder vive la sua giovinezza la sua vita covando un pochino di rabbia un po' di costante sensazione di disappunto da parte del padre dovuta probabilmente al fatto che lui pur cercando di crescerlo con amore sente un po' questa minaccia incombre su di sé e questa sensazione questa sorta di gelosia anche nei confronti di Amato Yoshi che come vediamo in questo numero diventa in un certo senso sia il suo rivale nel clan ma anche il suo rivale in amore per quanto possa amare una persona come Rokusaki in realtà vuole conquistare la mano o comunque vuole provarci vuole fare il non lo so il play lover su Tang Shen che è comunque già la moglie di Amato Yoshi tant'è che aspettano il loro primo genito che poi sarà Leonardo e quindi non c'è fondamentalmente una lotta per la conquista del cuore di Tang Shen il cuore di Tang Shen appartiene già a Amato Yoshi ma Shredder ha voluto fare lo stronzo e provarci un attimino vengono istituiti entrambi del ruolo di Chunin del clan del piede quindi Shredder scusate Oroku Saki si arrabbia molto perché voleva che questo onore cadesse su di lui e su di lui soltanto mentre Amato Yoshi nonostante la recente scaramuccia dovuta appunto al fatto che Oroku Saki ci aveva provato con sua moglie cerca comunque con estrema saggezza di farlo ragionare e gli consiglia di meditare e di cercare di abbandonare di combattere la sua rabbia in modo da raggiungere prima i suoi obiettivi purtroppo quando è in procinto di meditare viene diciamo raggiunto da Kitsune la strega volpe che abbiamo già visto che poi sarà quella che era alleata con Kranga era alleata con con appunto l'incarnazione precedente di Oroku Saki e che poi sarà la persona che porterà Oroku Saki nel ventunesimo secolo questa Kitsune rivela chi è a Oroku Saki chi è veramente ovvero la reincarnazione di questo condottiero del clan del piede che probabilmente vuole che riporti ai vari fasti negativi ai vari omicidi che perpetravano una generazione addietro questo ovviamente lo vuole fare vuole convincere Shredder a fare questo per i suoi loschi scopi scopriremo più avanti perché e tutte queste cose tutti tutti questi diari che Oroku Saki scoprì in passato sulla su chi era veramente sono stati scoperti da un professore il dottor Miller che è un esperto di Giappone feudale e che vuole capire di più sul clan del piede pare che abbia capito di più persino del clan del piede stesso tant'è che Shredder e il clan del piede e Karai lo hanno rapito appunto per aiutarlo tra virgolette a interpretare meglio i diari segreti che hanno rivelato Auroku Saki stesso il suo passato questo in modo da capire meglio le mosse future vengono intercettati dalle tartarughe ninja che invece appunto non vogliono assolutamente che il dottor Miller si immanichi con il clan del piede vogliono impedire questa questo rapporto di lavoro e ovviamente vogliono che il dottor Miller possa aiutare invece le tartarughe ninja il tutto si chiude con uno scontro finale nella attuale base del clan del piede che presumo poi verrà cambiata dal momento che le tartarughe ninja l'hanno scovata e ci lasciano poi alla seconda storia che è concentrata su Baxter Stockman nella seconda storia invece si approfondisce quello che sta facendo Baxter Stockman all'interno del tecnodromo ma forse dovrei dire che si approfondisce molto di più la personalità di questo Baxter Stockman che è a mani basse la versione più interessante che io abbia mai incontrato di questo personaggio sicuramente è ispirata moltissimo al fumetto dell'84 della Mirage ed è ispirata tantissimo alla versione del 2003 del cartone animato anche perché quella era abbastanza pedisse qua rispetto alla storia originale vediamo un Baxter Stockman che è stato costretto a lavorare per il generale Krang a costruire il tecnodromo per quanto sia intelligente Baxter Stockman non riesce proprio a capire bene tutto il funzionamento di questa strana versione TMT della morte nera ma ha comunque capito abbastanza ovvero che il tecnodromo servirà per terraformare la terra e per quanto sia uno stronzo Baxter Stockman e per quanto sia talmente stronzo da sostenere e supportare anche un eventuale dittatore esterno ovviamente non può sostenere che questa persona terraformi la terra rendendola inabitabile per la sua stessa razza per il suo stesso genere umano di conseguenza sta cercando dall'interno di fare in modo che il piano di Krang fallisca per farlo vediamo dalle riminiscenze del suo passato il rapporto che ha avuto con suo padre e come suo padre gli abbia insegnato tutto quello che sa vediamo un rapporto però conflittuale in cui spesso viene associato questo rapporto molto autoritario ed esigente del padre al rapporto che ha attualmente con il generale Krang che pretende una certa qualità una certa anche sottomissione vediamo come in passato Baxter Stockman giocava a scacchi con il padre mentre gli insegnava questo tough love e come questa vicenda presente per Baxter sia una sorta di partita a scacchi è molto bello come l'hanno narrata come sta funzionando la mente brillante per quanto davvero davvero senza scrupoli di Baxter Stockman per arrivare alla vittoria finale vediamo come in scena una sorta di ribellione del suo mostro metà mutante metà cyborg un chiaro omaggio al fatto che nella serie dell'87 Baxter Stockman sia diventato una mosca mutante e al fatto che invece nella serie originale e nella serie del 2003 e nella serie del 2012 sia fondamentalmente diventato un cyborg o comunque un costruttore di robot come lo è sempre stato come è stato il costruttore di Mauser qui ha unito diciamo le due citazioni e mi è piaciuto molto come abbiano saputo gestire la cosa lui dice a Krang che vuole appunto costruire un esercito di questi flyborg per avere degli operai a basso costo e molto sacrificabili per anticipare i tempi di finitura del tecnodromo ma il primo prototipo il prototipo di questo flyborg viene in realtà utilizzato per far scoprire a Baxter Stockman che ha finto per tutto il tempo di supplicare Krang di salvarlo dalla sua creatura una satanza una stanza di comando segreta dove si è rifugiato che gli ha permesso di scoprire molti più dati sul progetto che ha in mente Krang e ha scoperto appunto del fuggitoide e vuole che diventi un'altra delle sue pedine perché c'è proprio questa assonanza tra la partita scacchi e quello che sta facendo Baxter Stockman devo dire una storia una seconda storia davvero molto molto interessante che ci fa capire quanto è geniale la mente di Stockman di certo resta uno dei nemici più subdoli e più fastidiosi da percepire contro le tartarughe ma questo approfondimento lo rende molto molto affascinante io vi ringrazio per avermi seguito anche oggi fino a qui come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto vi dico arrivederci al prossimo video ma vi dico anche che tra poco su Twitch e spesso giocherò a tartarughe ninja Shredder's Revenge che è appunto il videogioco che è uscito il 16 giugno e che richiama lo stile arcade dei cavinati degli anni 80 quindi possiamo vederci su Twitch iscrivetevi a Twitch dove trovate il mio link per Twitch qua sotto in descrizione iscrivetevi seguitemi e così parleremo in modo più approfondito di tutto quello che volete delle tartarughe ninja arrivederci Iscrivetevi Grazie a tutti